Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. C'è una notizia dell'ultima ora che riguarda le grandi manifestazioni che hanno coinvolto la Francia tutta contro la riforma neoliberale delle pensioni voluta da Macron, il prodotto in vitro di Rothschild, dell'elite turbofinanziaria, il privatizzatore, liberalizzatore, l'uomo del grande capitale. Ebbene, due milioni di francesi in piazza contro la sciagurata riforma delle pensioni, quella che Savassandir riforma le pensioni in chiave neoliberale, cioè aumentando l'età pensionabile, andando a colpire, more solito, i diritti dei lavoratori, dei cetimedi, delle persone, delle classi nazionali popolari. Ebbene, i francesi però non subiscono in silenzio la violenza quotidiana dell'ordine neoliberale, ma scendono in piazza, ancora una volta, educando tutti i popoli d'Europa alla insubordinazione alla rivolta contro un ordine neoliberale che ogni giorno maggiormente ostenta la propria violenza invisibile all'apparenza, poi visibilissima negli effetti. La famosa mano invisibile del mercato di cui diceva Adamo Smith si vede molto bene poi negli effetti visibilissimi che cagiona in grazia della sua violenza in nome della competitività, dell'ideologia borderless, della concorrenza, della privatizzazione e così via. Leggo sul messaggero che anche la Torre Eiffel è stata chiusa per via di queste proteste, due milioni sono davvero tanti, sono numeri impressionanti che ci segnalano ancora una volta come i francesi intrattengano, a differenza di altri popoli d'Europa, tra cui quello italiano, un rapporto molto, molto critico verso il potere. Del resto, chi ha tagliato una volta la testa al re è meno disposto poi a subire in silenzio tutti gli imperativi del potere quando essi siano palesemente contrari agli interessi del popolo, come nel caso della riforma pensionistica di Macron. È il caso di dirlo senza ambagi, vive la France, in questo caso davvero vive la France e viva il popolo francese che resiste all'ordine neoliberale e alla violenza quale si è strinsecata nella riforma delle pensioni voluta da Macron, lo ricordo, aggirando il Parlamento, imponendo la sua fiducia contro il Parlamento.